Pisapia, portala via, che il vento cambiera! Tra Mirano e Milano il passo è breve, non solo per l'evidente assonanza fonetica, perché proprio la trionfale campagna elettorale del neosindaco milanese Giuliano Pisapia si ispira alla nuova strategia politica della sinistra nel comune commissariato all'inizio dell'estate. Non abbiamo bisogno di un sindaco forte, di un'istituzione forte, ma bisogna innanzitutto costruire dei forti anticorpi all'arroganza del potere. Non a caso tante decisioni di questi ultimi anni sono state prese in ambiti ristretti. Nell'ultima amministrazione, per esempio, le forze politiche che l'appoggiavano erano neanche consapevoli delle decisioni che prendeva il sindaco. Noi crediamo che innanzitutto c'è bisogno di un sindaco che ascolti la popolazione. In attesa delle elezioni della prossima primavera è ormai certo che il candidato sindaco di centrosinistra sarà scelto tramite le primarie di coalizione. È soltanto uno strumento, puntualizzano da rifondazione, la vera priorità deve essere un programma forte come quello di Pisapia che restituisca potere ai cittadini e si schieri decisamente contro le lobby affaristiche che promuovono le grandi opere. Noi diciamo che un'amministrazione avrebbe dovuto fin dall'inizio dire no a Veneto City e fare degli atti concreti contro Veneto City, non solo chiamarsi fuori da eventuali discussioni su Veneto City. Infatti l'hanno lasciata decidere al comune di Dolo e Pianiga e noi l'abbiamo solo subita perché ci siamo chiamati fuori fin da subito. Per quanto riguarda la Romea commerciale bisogna lottare in ogni sede. Un'eventuale amministrazione del centrosinistra dovrebbe avere come palo portante il rifiuto a queste grandi opere e l'eseguire degli atti concreti contro queste grandi opere.